sì, barella, pi come buona cucina buona cucina, barella, vuol dire un tocco di alta cucina nei piatti semplici di ogni giorno ogni giorno potete fare un capolavoro di cucina insieme voi e barella c'è una gran cuoca in voi e barella la rivela sì, barella, pi come buona cucina buona cucina, barella, vuol dire un tocco di alta cucina nei piatti semplici di ogni giorno ogni giorno potete fare un capolavoro di cucina insieme voi e barella c'è una gran cuoca in voi e barella la rivela sì, barella, vi come buona cucina buona cucina, barella, vuol dire un tocco di alta cucina nei piatti semplici di ogni giorno ogni giorno potete fare un capolavoro di cucina insieme voi e barella c'è una gran cuoca in voi e barella la rivela barilla barilla la rivela ed ora due parole sulla pasta barilla la buona pasta barilla tu sai come cuoce come tiene e che bel colore dorato ha quando il tuo piatto è pronto per il tuo uomo e per i tuoi ragazzi tu vedi che c'è più gioia in loro quando porti in tavola pasta barilla sceglila sempre con tanta simpatia e ogni giorno con pasta barilla avrai un piatto da favola e poi lo sai in te c'è una gran cuoca e barilla la rivela senti perché aspettare domenica per fare allegria con le tagliatelle all'uovo barilla è subito festa darete a me puoi fare domenica quando vuoi con la buona pasta all'uovo barilla che piace tanto al tuo uomo e ai tuoi ragazzi si fa loro una bella sorpresa con un piatto di fettuccine barilla così dorate così gustose insomma una festa è davvero una festa con la pasta all'uovo barilla e poi lo sai in te c'è una gran cuoca e barilla la rivela ed ora due parole sulla buona pasta barilla tu sai come cuoce come tiene e che bel colore dorato ha quando il tuo piatto è pronto per il tuo uomo e per i tuoi ragazzi tu vedi che c'è più gioia in loro quando porti in tavola pasta barilla e che festa fanno quando scegli la pasta all'uovo barilla si con pasta barilla avrai sempre un piatto da favola e poi lo sai in te c'è una gran cuoca e barilla la rivela comincia bene chi sceglie barilla pasta barilla è fatta così è tutto a grado duro ed ogni volta che la fai un gran frio può riuscire con barilla ogni volta una varietà diversa ogni volta un trionfo e ricordate le novità all'uovo paglie fieno e spaghetti alla chitarra certo comincia bene chi sceglie barilla e ci sceglie barilla che sceglie barilla